Musica Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Chioggia, gli agenti della Polizia Locale e una delegazione della Ustres Serenissima si sono recati per un'ispezione dettagliata all'hotel Capo Est di Via Cristoforo Colombo. L'operazione di controllo è stata richiesta da parte di una cliente ai carabinieri, i quali hanno coinvolto anche gli altri due enti, appunto la Polizia Locale e l'Ufficio Igiene. Le possibili contestazioni sono probabilmente di carattere sanitario. Già la scorsa estate la struttura di sottomarina era finita nel milino dei clienti su TripAdvisor e anche oggetto di analoga e approfondita ispezione interforze nell'agosto 2017 che si era conclusa con l'acquisizione dei dati degli ospiti a riscontro della loro denuncia negli appositi portali web di categoria. In quell'occasione, durata molte ore, i militari, gli agenti e i sanitari avevano allargato il fronte anche a ricomprendere analisi di carattere igienico, tributario fiscale e relativa al rispetto delle norme antincendio.